Saluti a tutti, mi chiamo Marco Io naso e ho preso in Castello, che è la capitale della Sardegna Ho lavorato come operatore di risorse sanitarie e mi prego in merda di Limbasa Io ho fatto il lavoro di Sardo in questa variante campitanese che è la variante del giosso, delle parti meridionali dell'isola e ho fatto un corso della lingua sarda Ho preparato una scantura di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio e ho fatto un'esercizio Volei sia se presentai vosotros? Marc? Ok, salut a tutti, io sono Marc Io vengo da Montreal, Quebec, Canada e io vorrei parlare in francese in questa video e voi mi trovi su Instagram, Vormir, con due M Ok Linda Ciao a tutti, io sono Linda sono italiana e sono originaria del Piemonte Hola, io sono Isidro, sono professore di spagnolo Io sono di Mexico, del centro di Mexico, Guanajuato e starei hablando spagnolo Ok Poi adesso cominciare? Sì Poi farà su caffè e espresso Sì 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 È preparato Isidro è preparato Sì Sì, per supuesto Marco Marco scusa Sicara grande, piccola Sicaredda Sicaredda È come in italiano Edda sarebbe Ina Ahah, bello Ok Bene Andiamo con il secondo video Sì Andiamo Il secondo video è una pranta, uno vegetale Manno Arto Solitamente si chiama in sull'arto, a fuori delle città Ma si vuole si chiama in città di Spurman, anche in spartus Ok Tipicamente, dopo dei biri, in scarrere, si chiama una volta e sattra E si chiama in una arborata Ok Ci vunti, questo su, chi donanta sa fruttara Cus su, chi donanta un braccietti Cus su, chi in sierro, possa maggiori, ci perdenti sfollasa E ci vunti, sa varierare i vuru, de cus su, chi sinanta sempre i birdi Poeta, in sierro vuru, atturanta con i sfollasa Ok Wow Wow, chi è? Difficile intendere sto Ok Allora Stiamo parlando della parola generale per questa pianta che può essere di diverso tipo e può anche dare frutti o non dare frutti, può essere verde durante tutto l'anno o no? No, la parola generale No entiendo la pregunta dell'inda general, no entiendo tu pregunta linda. Voglio sapere se stiamo cercando la parola generale per questa pianta particolare, che è una pianta di solito alta, che ha un tronco, che indica questo tipo di planta è un tipo di pianta. Quindi questa planta non è un arbol, vero? Oh, è un arbol. È un tipo di planta. Ok, questo tipo di planta. È un tipo di planta. Si? No? Il sardiniano è difficile. Ok. Ui, il sardiniano è difficile. Si? Ok. È più difficile che il francese. Ok, quindi la parola è... Arbol. Ok. Mata. Mata, mata, mata. Che è che sono meno opportune. Ok, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no c'è altro che, ok. No, 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 no. Come ti sei dovuto spiegare? Mata, che è se so? Una variante di questo voeto può dire arbore Ma in per caso brus matta Arbore In questa guerra, quando cinti vunti merasa, si narra la arburata Poi taci vunti merasa arborese Comprendis? No? No, davanti ho solo l'impressione che si parla di un arbre in questo momento Non sono sicuro che sia, penso che sia a cogliere la plaque No, non lo so Andiamo avanti Andiamo avanti Marco, matta è un'altra parola per l'arbre, vero? Sono sinonimi Su voeto di impero su debruzzo è matta Ok? Ma si vorrei nai buru arbore Ah, sì Ma quando vuoi da uso in treno, in castello, in sardinia, narra us matta E shiugi, in sa lingua rua, mata vuole nai... matar Ah, nella lingua española Ma è tutta un'altra cosa In spagnolo, mata, se usa... Però non sono sicuro del uso di matta, ma anche per planti Per esempio, una mata di tomate o una mata di algo Si, è una planta, però no se si tenga un uso come specifico per algo O... o... può usare come sinonimo di planta Una planta di tomate, una mata di tomate Sì, è un animale. Ok, andiamo avanti, sì? Andiamo, andiamo avanti. Su dei tre suoi due, è un animale. Un animale. È un animale che è un animale, che è un animale selvatico. È un animale che è un animale che è un animale. Ok, andiamo avanti, non è un animale che è un animale, non è un animale. Vividi in Sussardo, ovviamente, ma accanto a questo video, ti ricordi di questo video? Se vuoi andare troppo all'estero? Ok. È veloce? Ah, un po' veloce. Sì, un po' veloce. Ok. Vividi accanto a dei sbiddasa, aondi sa genti tenere animali sicommente puddasa o cunillusù, poi tassinci dus pappada. Ok? Pappada cunillusù. Nanta che furbo mera, potorrei a Singilterra, sa reina di Singilterra dovrà girare a due cassai, fai sagassa a custa di male. Ok? Ok. Ok, allora, si parla di un animale, questo è sicuro. Eh, è un animale che è poilù? Si è? Un animale poilù. Sì, è un animale che apparece frequentemente in las fabulas. In italiano c'è un'espressione che dice furbo come questo animale. C'è un'espressione con un personaggio basato in questo animale o relazionato un po' con questo? In questa fabula del Pinocchio, da conoscesi, ci sono due personaggi, ci sono due personaggi, ci sono due personaggi, ci sono due personaggi, ci sono due personaggi e gli animali. Sì, 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 sì. Ok. C'è il suo? E siamo. Listos? Zorro? È un zorro? È un zorro? È un zorro? È un animale con pelle, pelle di color rojiso, amarillo. È un zorro molto astuto, ovviamente, e sta in le fabulas. Sono pensando in fabulas di Esopo, ma non sono sicuro. Ah. Non so. È un outro. È un paraqua. È un' weak appetito. Un u docto? Un爆are sono di potenti. Un intero è un suoi, quando c'è Mengezza. Un certo? Un certo, al Vеля si fai ngày vaccinesi. iend chaine tutto il piatto, era meglio… Che si dice voi vivere senza un们 script. È un brano è un vero? È un skott per sempre? Ha un altro открытие. Furbo come una volpe? Questo? Sì. Credo che in spagnolo è astuto come un zorro. Però quindi stiamo parlando del mismo animale. Zorro è volpe o non è volpe? Sì, sì, sì. È la questione. Marco, tu che dices? È meno intelligente, meno furbo, astuto. È questo, è questo. Sì, sì. Il sardo si non ha raggiato e si può, lo contai una cosa. Si non ha raggiato... Ce n'è pas super gros, no? Ce n'è pas très gros. No, è piccato. E adesso, se va mille sugani, ma è più piccato. Comento un ugani, ma piccato. Ok? Si va molto contendi una cosa. Raggiato in sardo si impera la voce antichamente si creiante a chi gusta animali fiera sincarnazioni del suo dimonio. Ok? È una leggenda sobre questo animale. Si, si creiante a chi viera sincarnazioni del suo dimonio. E di naranza, Mragiani pone Mariano, poi dice Madonna proteggerà a questa persona del suo dimonio. Ok? Ah, va bene. È una legenda molto gotica come leggenda. È una leggenda. Oye, Marco, puoi mostrarti la parola in sardin... Come se pronuncia? Mrajani. 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 Wow. Mrajani. 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 Mraja. Mrajani. 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 Mraja. 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 È molto similiare. Mraja. Mraja. Marines, espano e italiano, ma no… È roma, ma no es diverso. È roma. Oui. Mraja. Mraja. Ma non è italiana, francese o espano. È una genera del pianeta Venere. Ok? In sardo non è una genera che viene in latino «cana pura» che Karena su una genera potenza di semina. Limpia, pura, poi anticamente la comunità giudea sarda In questo giorno, a su notti, appare a seguire le tradizioni giudaiche Poi iniziano a prendere il Shabbat, limpio, puroso E in una cena pura, poi non appare a pezzo, proprio Seguire a regola di questa religione in solo Ok? Ma, just'inno solo per capire, in realtà non ci sono tutti, ma in realtà In realtà, ti sono state dryorando l'origine del uomo, c'è questa? C'è una storia che ha rapporto con una nonna Ok, c'è quello che ho capito La regina di la regione della regione è latina E non è alto e su planete Poi noi, questa regione, su paia d'un Anti-Sumerei che depiressi puro poi ci brindai al suo weekend limpio poi sta sul weekend sul Shabbat depisesti puro poi tu resti sardie del Deus quindi sardie prima depis papai bene poi ti limpiai più o meno va bene andau su su ultimo fuedo? si ok su ultimo fuedo è un aggettivo aggettivo indicara azionesi che fate uso dognadia ok poi adesso si sciacquai a papai andai a traballare e spiepiedi su mancare andai a scuola punti dotto azionesi che fate uso dognadia è una cosa che si fa sempre dognadia posso chiedere una cosa possiamo chiamare con questo aggettivo anche un tipo di giornale ella ok me perdì me perdì estoy totalmente perdido a ver es un aggettivo que se puede usar para referirse a acciones que hacemos de manera cotidiana ella exactamente ajá hay como muchos adjetivos que puedo usar pero no sé exactamente lo hai usato si como lo hai usato tu hai usato questa parola parlando oh si usé la palabra linda qual fue tu pregunta por favor puedes repetir tu pregunta quizá puedo comprender mejor si es posible usare questa parola anche per indicare un tipo di giornale ajá ya 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 muy bien gracias moi je suis encore un peu perdu en fait bon je comprends que c'est un adjectif qui peut être utilisé pour chaque jour après bon il y a plusieurs adjectifs qu'on pourrait utiliser c'est c'est est-ce que tu aurais par exemple un exemple quelque sorte de quelque façon un exemple ou travailler pour quand tu travailler ok ok vraiment pas ça pour celle-là ok pour vous pour c'est 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 ok c'est 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 quotidien quotidien j'étais pensant en escribir quotidien quotidien je vais l'écrire comment se pronuncia fitiano 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 en espanol diario diario aunque tambien usamos la palabra cotidiano pero no para referirnos a esta publicación diario onde ven de dia exacto en espagnolo comment diario como perdon in espagnolo comment in ara la sad di sad dia si son días de la semana un día si comment in sardo ok mi varie que os acabado ah muy bien yo potevo capir un po es increíble es estran si es extraña la escritura dijiste la escritura es estran la escritura es estran el modo de escribir es estran es si wow moi c'était la primera fois que j'entendais cette langue puis si je pense que si j'avais aucune base par exemple d'espagnol ou juste comme un peu des mots italiens par-ci par-là j'aurais absolument incompris déjà que j'ai pas compris grand chose mais ça aurait été pire c'est sûr donc pour moi c'était quand même difficile je n'étais pas tout j'ai suivi tout et oui c'est